buongiorno anche oggi al corso di formazione online per farmer scientist parliamo di una pianta stavolta parliamo dell'acetosella gialla nome scientifico oxalis pesca apre questa specie è originaria della regione del capo di buona speranza in sud africa l'acetosella gialla è stata introdotta nelle regioni insulari d'italia e in altre regioni mediterranee verso la fine del settecento ed è oggi presente in tutta la parte centro meridionale del nostro paese è invasiva in ampie zone della sicilia e della sardegna e come via di introduzione i suoi bulbilli sotterranei possono essere trasportati con materiale di risulta della lavorazione dei terreni ed è quindi probabilmente in questo modo che è giunta fino nel nostro paese è una pianta erbacea alta 5 dai 5 ai 25 centimetri provvista appunto di bulbilli sotterranei di forma ovoide all'apice del fusto presenta una rosetta fogliare con piccioli lunghi dai 3 ai 15 centimetri che terminano con una foglia composta da tre foglioline con apice profondamente incavato leggermente succulente di colore verde chiaro e di solito punteggiate di bruno porpora le infiorescenze in numero da 1 a 5 ascellari sono un umbelliformi o ombrelliformi che dir si voglia e portanti fino a 20 fiori imbutiformi e penduli ogni fiore ha un diametro che va dai 2 centimetri e mezzo ai quasi 4 centimetri e a 5 petali o bovati di colore giallo intenso i frutti sono capsule appuntite di circa mezzo centimetro di lunghezza che però raramente arrivano a maturità in quanto sono sterili la pianta si diffonde infatti essenzialmente per via vegetativa proprio mediante i bulbilli il nome del genere è una combinazione dei termini greci oxis acido e alz o alos sale quindi oxalis sale con riferimento al sapore acidulo e salato della pianta mentre il nome specifico quindi pescapre è composto dai termini latini pes piede e capre di capra che fa invece probabile riferimento alla forma delle foglie anche se per alcuni fa riferimento alla forma della radice che assomiglierebbero allo zoccolo della capra per quanto riguarda le specie simili può essere confusa con oxalis corniculata che però non produce bulbi sotterranei e che potete vedere in questa foto oppure con oxalis flava che però ha foglie composte da 4 a 7 foglioline di forma allungata o con oxalis compressa che invece ha piccioli lunghi ma appiattiti e leggermente alati per quanto riguarda gli impatti quando occupa eccessivamente i terreni agricoli può provocare una diminuzione della resa dei raccolti questa specie cresce in abbondanza in frutteti vigne orti giardini e in zone ruderali esempio campi abbandonati o aree urbane ma è facilmente rinvenibile anche in siti meno sottoposti a disturbo quali praterie arbusteti e margini boschivi in primavera ogni pianta produce una ventina di buldilli che rimangono dormienti per tutta l'estate e germogliano in autunno la fioritura alluoga in inverno e si protrae fino a primavera quando la parterea scompare chiudendo il ciclo riproduttivo anno per anno questa serie di meccanismi vitali consente alla specie di produrre elevate quantità di bulbilli e di conseguenza permette una diffusione molto rapida della pianta rendendola altamente infestante attività agricole urbane che comportano un rimescolamento del suolo intensificano poi questo processo invasivo per quanto riguarda la biodiversità può causare una significativa riduzione della stessa in quanto le larghe colonie clonali di oxalis pescapre possono inibire la germinazione dei semi delle altre specie erbacee sia aliene che autottone per quanto riguarda invece la salute umana negli scapi fiorali cioè gli assi che portano i fiori sono presenti elevate concentrazioni di ossalati che se introdotti nel corpo in grandi quantità possono causare avvelenamenti d'acido ossalico che è una sostanza che è in grado di modificare il bilancio elettroditico del sangue con conseguenze che possono essere molto gravi sia per gli animali da pascolo che per l'uomo in passato la pianta trovava largo impiego nella medicina popolare e sulle navi come antiscorbuto proprio grazie all'elevato contenuto in vitamina c invece nelle sue foglie anche per oggi abbiamo concluso grazie per l'attenzione a